evviva la ripresa questo è più bello i giornalisti usano la mascherina per non farsi riconoscere ma certamente quando non ci vogliono mettere una faccia allora cosa abbiamo? non lo so, te lo sei già comprato il monopatio ma lo faccio, faccio sì sì, a me piace la bice elettrica anche per andare in montagna abbiamo fatici tanto beh insomma, però devi sentare comunque è una pedalata ma perché il governo, sai, ha lanciato l'eco-incentivo e c'è stata una corsa all'acquisto di monopattini e bice elettriche ma qualcuno voleva correre ancora di più ma dalla gelata per questa volta al fresco c'è finito lui attenzione, questo ragazzo tenta di rubare un motorino ecco e... ...motori, gioie e dolori sì, per il ladro Stai imitando un carburatore Un imitatore così divertente dovrebbero montarlo di serie Il padrone finge che il pupazzo dopo aver mangiato le crocchette muoia Osservate il cane Sarà fido ma di sicuro non si fida La potenza non è troppa, quella era un cane, era un gatto, dimmi te ne ho una sola Non sapete che i gatti hanno un metodo infallibile per capire se devono mangiare una roba verimosa sì o no? No Ma veramente hanno, e questo è vero eh, mandano avanti gli anziani No, no, anche io eh Mi troverà anche con la testa per la prova Eh, lo sai, io non mi metto in mangiare, allora dica In uscita invece, ottimo che arriva l'inaccio sulla scritta da Paglias Va a fare il vantaggio, c'era un fatto a centrocampo, Paglias che ne avrebbero i piedi in preparo di rigore Volendo riporta Paglias, due o Paglias contro quattro All'ultimo viene chiuso e poi si alza la bandina dell'assistente Se nella azione di fuori gioco, la circoluzione a favore del Sassuolo Ma di là, stasce molto, non è bisogno del centro campo Questo, sul quale l'arbitro è un vantaggio per il gioco che ha vinto Per altri, sono una parola che mi stia mai Forza, cine di fuori gioco Grazie a tutti.